Ciao a tutti e bentornati a una nuovissima reaction Oggi però farò una reaction a una canzone Che ha caricato praticamente un minuto fa Anthony di Francesco Ovvero like e dislike Fatemi sapere qui con un sondaggio se a quella canzone avete lasciato like o dislike Perché sono curioso Comunque vi invito se volete lasciare un bel mi piace sotto questo video E di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E magari sentite la canzone fino alla fine Perché voglio sapere cosa ne pensate Allora mettiamoci le cuffie Ok eccoci qui Allora è uscita adesso praticamente a 3000 visualizzazioni Vediamo un po' di che Madonna io già mi faccio il segno della croce Mettiamo un attimo schermo grande 3, 2, 1 Via Io già mi faccio il segno della croce Silenzio ragazzi Allora prima cosa Anthony come professore Come dire che il papa bestemmia Andiamo avanti C'era anche K lì giustamente Like e dislike Se vi dico like Cosa vi viene in mente Barbara d'Urso che cade a pomeriggio 5 Che cazzo c'entra Vabbè Vai Ci siamo vicini E se vi dicessi dislike Di Francesco Bravo Bravo Bravissimo Chi è stato Chi l'ha detto Non parla a nessuno Bene Vorrei dire che metterò un bel dislike A tutta la classe Bravo Oh attenzione Si casa un tot zio Mi chiami e non rispondi Rispondo dislike Mi chiami e non rispondo Rispondo like Esci dal collegio E prendi like Cecilia nell'armadio Fai dislike Eh no Non fai dislike Fa un'altra cosa Quella te la dico io Metti il recchio e ti confessi Emergenza like Una famiglia che ti ascolta Non c'è like Terremoto Scuole chiuse Ogni tutto di like Ti compri like Dislike I tuoi commenti sono in arabo Io quella foto nulla carico Onesto Che cosa ci va la sorella di entri Tutta truccata Con il mio Apple sono empatica Eh Like Dislike Like Dislike Sì Dislike Eh 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 Bravo Bravo Mi sono tolto la vita Per farmi mettere like Il fagliaccio della classe Fa 200.000 like Fagliaccio Ti metti like da solo Dislike Ok Un attimo E' una pausa un attimo da Amico mio Signore Dai signore Non l'hai mai vista Ma quella è la sorella di Anthony Ma poveraccia Penso eh Non vorrei dire cazzato Las ormai Excellente indica la salvezza bravo il pollice verso indica la morte bravo ehi come diritti anthony anthony la 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 c'è così signori stand innovation bravo allora però una cosa c'è da dire ok meglio di quell'altra cagata perché non so se spiriti ei guardando questo video anthony è meglio di quello che parte la parte la chic La come cazzo era Eh Fidati che è il triplo meglio Video fatto molto meglio Canzone orecchiabile Non sono un amante di Anthony Francesco assolutamente Però c'è da dire Che la canzone è molto meglio di cui parte la ship Cioè molto molto Non è ai livelli di Di non so chi però Ok ci sta Noi ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando con un bel mi piace Con una bella iscrizione E ciao And I will defend I will defend And I'll do what